Ti dico subito che io odio le armi, io odio le armi, però io da partigiano ho imparato che se non avevo, non avevo questo e io sarei marcito in galera, sarei stato ammazzato dai fascisti e dai loro padroni. Quindi ecco perché voglio che prendiate anche questo fucile che è un fucile a pallini per sparare gli uccelli, ma io non sparerò mai a un uccello come simbolo. Spero che un'azione di massa popolare di tutto il popolo possa entrare nelle sedi del potere e cacciare i furfanti, cacciarli tutti, cambiare sistema. Spero che possa arrivare così. Ma la storia che conosco mi insegna che purtroppo senza il ricorso alle armi, tu questo sistema non lo cambi. Ti amami ora, anche la tua pelle non mi consola, nella tua pelle e nel tuo viso diviso, non è una scura scusa, non è un gosso di noi. Un treno è passato, un treno nero pieno, corre il soldato... Grazie. Grazie. Grazie.